Dopo il successo di questi mesi, il camper di Asle e Misericordia torna operativo a servizio esclusivamente dei più piccoli, ovvero fascia 5-11 anni, che nel mese di dicembre hanno avuto accesso alla vaccinazione. L'iniziativa è stata lanciata dalla Regione Toscana come sensibilizzazione alla campagna vaccinale nei bambini in età pediatrica. I camper saranno presenti dalle 12 alle 17 davanti alle scuole aderenti, negli orari in cui è prevista l'uscita dalle lezioni dei bambini del mattino o del pomeriggio, e saranno disponibili con personale Asle anche nei giorni festivi. I bimbi dovranno avere la loro tessera sanitaria ed essere accompagnati da entrambi i genitori o avere la delega del genitore non presente. L'accesso sarà diretto e non occorrerà la registrazione sul portale. Ovviamente, essendo dosi pediatriche, solo la fascia 5-11 anni potrà usufruirne. All'iniziativa, per ora, hanno aderito cinque istituti comprensivi della provincia di Arezzo, il Giovanni XXIII a Terra Nuova, l'istituto comprensivo Poppi II, il Martiri di Civitella a Civitella, il Masaccio a San Giovanni e l'istituto comprensivo di Monte San Savino. L'obiettivo, spiega il direttore generale Antonio Durso, è quello di aumentare le difese immunitarie dei più piccoli contro il virus per recuperare al più presto la libertà di socializzare, fare sport e tutte le attività legate all'infanzia.